Ciao a tutti ragazzi e ben ritornati sul nuovissimo video Oggi siamo in compagnia di Andrea E buon salve a tutti Sì, siamo un po' stanchi di già Vabbè No, no, grazie Vabbè, sono stato in piscina tutto il tempo oggi Ma com'è? Eh sì Ma mi avete detto... Ah, credevo che facessi ancora i corsi No, no Allora No, io c'ho Edgar solo nel terzo account Allora Vediamo che mappa è questa Sempre la stessa ovviamente Che brawler posso usare? Mi consiglia un brawler per questa mappa, signor Edoardo? Io intanto mi prendo Leon Allora Quanti brawler hai? 32 Ok Scusate ragazzi mio nonno Allora Ma ti va bene Autobit? Sì, sì Ok, allora quello Eccolo qua Anche se va un po' lento però spara lontano Ho anche il gadget che gli fa sparare più colpi Va bene Ok 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 Allora Allora Posso dire una cosa? Sì, sì, sì Allora volevo dire Visto che anch'io sono uno youtuber Potreste andare su youtube Perché io e i miei amici Perché io e i miei amici Francesco e Alessio Abbiamo un canale youtube Voi andate Cioè puoi mettere il link nella descrizione del video Magari Sì No 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 Porco Giuda No Oh yes Oh no Eh ma Non so come si mette la roba in descrizione Come no 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 Mandami il link del video Di un video del canale E poi io lo metto Faccio un video dove metto Iscrivetevi a questo canale così Va bene Allora Un secondo Non lo fare adesso Ah ok lo faccio dopo Lo faccio dopo Ok Intanto qua un nuovo pallino Per fare i cerchi Per disegnare Allora Andiamo Diciamo che Secondo me potremo anche Già mettere pronto Io metto già pronto Va bene Bisogna recuperare le coppe Almeno secondi bisogna arrivare Sì infatti Se spariamo sempre uniti Facciamo un casino Della madonna Ok Chigliamo tutti No 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 Zio Sì ma non Cioè io non gioco A brustasse Da tanto tempo ormai Eh capita Ragazzi Ragazzi qual è stato È l'ultimo video È stato più di un mese fa Ok sono quasi morti No Eh voleva La signora Janet Nabba Stranabba Eh no però Sì ma madonna Sì ma madonna Allora Content Veramente molto content Eh no però Ma usa la mira automatica Quello lì Eh sì è un nabbo Eh sì è un nabbo Allora vediamo se la uso anch'io Cioè Cioè ma allora se usi la mira automatica Usala anche te Oh zio Eh sì la sto usando No Sì ma Spiegatemi Il motivo Una cosa Cioè Oh Ma Stiamo scherziamo Sì vabbè Spamme ne basta Oh Bravamente ricordo No 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 Non è good sta cosa No Non mi piace Non mi piace Adesso per colpa rollo Devo recuperare 12 coppe Spamme Ma ho messo un brawler Di grado basso Perché altrimenti Non si può giocare qua E poi Non si è racchillato Ancora nessuno Spamme Spamme No fai Spamme 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 Uh Credo ti poterti Cospetta che Uh Feng Feng Non andarci giù Ci vai giù Se attacchi E basta Corvo lo so usare Ah Oddio Mi sono salvato Estremamente So usare molto Corvo Forse Forse Si 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 vede Si vede Aiuto No No Mannaggia Ma come hanno Ma come hanno fatto Eh Dynamite Corvo che c'ha poca vita Dynamite c'aveva oltre tutto Un sacco di Power Mannaggia Si ma allora Ma allora Non si può giocare Si ma infatti Non si può giocare No no basta No 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 Dovrò usare un brawler Che so usare benissimo Anche se ce l'ho di grado altissimo Basta Bisogna usarlo Benissimo Io metto rosa Quella di Feng Ok provaci Proviamoci dai Est unito a te Bene Che prima ci siamo andati giù Perché siamo rimasti Si Un secondo Dopo questa partita Mi sa che dovrò andare Anche perché mi stanno chiamando Ah Un secondo Allora il video finirà Siamo 6 minuti Comunque lo posto Poi continuerà Ci sarà una parte 2 Si ma allora Venite solo contro di me Ah No Mi vogliono fare del male tanto Ma male fisico Ah No 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 Zio Aiuto Eh No mi dispiace Eh Abbiamo fatto sbocco Ma perché perdo sempre Perché faccio schifo io Cioè perché Non lo so Perché bisogna camperare le partite Cioè altrimenti non si può giocare Va bene Io direi che devo andare Quindi Ciao Mi è piaciuto sto primo video In realtà no La prossima parte la faremo su Brookhaven Anche perché Su Brustarts è troppo difficile Infatti Va bene E vi saluto Ciao Ciao Ciao